SOS Trader, ben ritrovato. Buonasera a lei, grazie per l'invito. Allora, mandiamo solo una breve intersigla e torniamo tra pochissimo da lei, Di Lorenzo. Allora, Di Lorenzo, una giornata quasi da manuale, si è recuperato la metà più o meno di quanto perso ieri, non che sia una regola scritta, ma di fatto non si può dire un recupero pieno. C'è chi si è riposizionato dopo le vendite pesanti sull'Italia, venivamo da un 2-12%, da lunedì in avanti come vede la possibilità per l'Italia e per il nostro listino di subire delle perdite, qualora l'esito vada a ridescrivere i rapporti all'interno della maggioranza? Oppure, se ci fossero delle sorprese, dove vede il nostro listino? Sì, giornata direi a 3 velocità, partenza forte, l'indice ha preso subito 200 punti e poi ha consolidato, apertura americana che ha un po' scoraggiato gli acquirenti e quindi leggere prese di profitto e come lei diceva in qualche modo tamponano il ripasso della giota ieri. Cosa aspettarsi lunedì? Molto dipenderà dall'esito elettorale per due ragioni. La prima, per comprendere quale sarà il nuovo asset del Parlamento europeo e non è facile perché sono tante le nazioni votanti e quindi è difficile immaginarle. La seconda, perché potrebbe impattare anche sul nostro esecutivo. Si sa che si aspettano anche i pesi di pesare un po' la forza elettorale delle due compagini di governo e il timore è che da lì nasca un'ulteriore fase di tensione e per questo lo spread sarà da guardare con grande attenzione nel corso della prossima settimana. Lorenzo, andiamo a vedere anche quella che è la situazione per alcuni titoli. Kesni Holland, dopo prima la notizia, oggi uno dei titoli più acquistati, ha intenzione di riavviare il programma di acquisto di azioni proprie. È un programma, questo, che consente così di dare ossigeno al titolo e interesserà il riacquisto in più tranche di azioni ordinarie per un importo massimo di 700 milioni di dollari. Un programma destinato all'ottimizzazione della struttura patrimoniale della società e a soddisfare gli obblighi che derivano dai piani di incentivazione della società. Tradotto, Kesni Holland adotta più una pratica americana di remunerare gli azionisti mediante un incremento del valore delle azioni più che distribuire o in aggiunta alla distribuzione di un dividendo. Che prospettive ha sul titolo? Sì, la questione è questa. Nel corso di maggio Siennic ha perso 2 Euro. È partita a 9,75 e è arrivata a poco meno di 7,75. Questa è stata un'opportunità per fare questa operazione. La mia impressione è che Aria 7,60 sia un supporto interessante, un supporto al quale potrebbe partire un movimento di recupero almeno parziale dopo questo che è stato un maggio veramente complicato. Quindi nel breve termine mi aspetto di marzo. Nel medio termine molto dipenderà anche da quello che sarà il mood del mercato rispetto all'indice italiano, temo che se la situazione politica si diventi in qualche modo incandescente, tipicamente arriveranno i soliti attacchi sullo spread e quindi l'indice potrebbe essere penalizzato, così come anche il CNH come tutto l'indice. Quindi nel breve ritengo che un rimasto ci sia, ma nel medio termine attendere un attimo l'esito di questa tornata elettorale per comprendere se l'Italia è la protagonista di un'estate calda o piuttosto saremo sereni con uno spread e magari va sotto i 250. Parliamo anche di team ai minimi storici perché ha ostacolato, secondo l'antitrust, l'ingresso sul mercato di Open Fiber. È quanto scrive l'autorità garante per la concorrenza del mercato nel procedimento per abuso di posizione dominante nel mercato all'ingrosso e al dettaglio, un procedimento che è stato avviato alcuni anni fa e che potrebbe sfociare in una forte multa pari anche ad una percentuale del fatturato per team. Nel documento che non è stato pubblicato dall'antitrust, viene riportato da alcuni media e da alcuni quotidiani, si legge che dall'analisi della documentazione raccolta emerge una strategia da parte di team anticoncorrenziale complessa, composta da condotte differenti attuate nelle aree bianche e nella restante parte del mercato nazionale. Le condotte sono tutte indirizzate, dice il documento, a preservare senza giustificazioni il potere di mercato all'ingrosso e al dettaglio detenuto da team, ostacolando l'ingresso sul mercato di Open Fiber. Ora di Lorenzo, non una cosa piacevolissima quando l'intenzione del CEO Gubitosi è comprare Open Fiber tra l'altro in carta, dando agli azionisti proprio delle azioni team, per due ragioni, questo sgambetto appurato dall'antitrust e del calo delle azioni team che potrebbero diluire ulteriormente l'azionariato esistente nell'ex monopolista, qualora si concretizzasse questo per azione. Che ne pensa? È giusto che team valga solo 44 centesimi? Una fusione con Open Fiber si potrebbe fare e che risvolti potrebbe avere sul titolo? Sì, la verità è che non c'è pace per questo titolo, se pensa e fa mente locale, anche negli ultimi anni è stato un trend ripassista che non ha fine ormai da anni. La notizia è che il titolo ha sfiorato, i minimi assoluti toccati il 23 gennaio a 43 centesimi, questo è un prezzo veramente marginale che sconta secondo me tutto il peggio che in qualche modo potrebbe attendere il titolo, quindi è sicuramente un titolo penalizzato che in questo momento sconta anche degli scenari estremamente negativi, ritengo che a questi livelli di prezzo una piccola fiscia si può mettere, consapevole del fatto che siamo di fronte a una storia complessa di fronte a una storia che presenta anche degli sviluppi piuttosto complicati anche sull'azionale che ha da definire, quindi a questi prezzi onestamente mi sembra ragionevole, fermo restando che giornate come quelle di oggi, ahimè potrebbero essere all'ordine del giorno con news che spazzano via anche gli stop, perché c'è stata una caccia di stop abbastanza brutale dopo la notizia e quindi per chi avesse un'alta propensione a rischio e un orizzonte medio-lungo un piccolo acquisto potrebbe essere fatto su questi livelli consapevoli che bisognerà lanciare le cinture di sicurezza nei prossimi mesi e anni. Infine parliamo anche di Amplifon di Lorenzo, oggi il titolo peggiore, meno 2,9%, è sempre stato un titolo difensivo, oggi perde circa 60 centesimi, ha perso visto che gli scambi sono chiusi, 60 centesimi, fa però parte di uno di quei settori comunque per Amplifon che sono in continua espansione e che sono anche abbastanza... Un settore dove c'è ancora una scarsa consapevolezza anche dell'utente finale di poter utilizzare un prodotto simile come quello offerto da Amplifon, il mercato considera queste cose oppure no? Sì, è vero, oggi è una battuta adesso, ma contestualizzata all'interno del movimento partito il 7 maggio, è ben poca cosa rispetto al rialzo che ha generato, il titolo è una bellissima storia, è un trend di artista definito ormai da anni, direi lo speculare di Tim, del titolo di cui parlavamo prima, quindi una storia di grande successo, qui mi sembra semplicemente una battuta d'arresto sulla resistenza che era presentata al massimo assoluto toccata il 12 settembre in area 2070, quindi uno storno fisiologico e anche secondo me interessante per prendere posizioni a prezzi più congrui, ma è una storia che mi piace e ritengo che il breakout di area 2070 potrebbe aprire un nuovo impulso rialzista e quindi prospettiva assolutamente interessante. Bene, grazie allora Pietro Di Lorenzo di SOS Trader, grazie ancora e arrivederci. A lei, buon weekend!